Ok, ci siamo, buongiorno a tutti belli e brutti, come state? Tapposti? No tapposti? Com'è? Ok, famosci un bel singolones Sperando che le lobby siano decenti, dai Senza troppi camper Sperom Sperom Tanto mangio il mio yogurtino Che mi fa venire il cagottino E via E via Al-Mazra Bra Ah, ma non me l'ha messo Aspettate, perché non me l'ha messo? Un attimo, eh Perché mi... Sapevo che succedeva tutto ciò Ma raga ma... Ah sì È qua Un attimo Ma non me l'ha messo? Link fissato? Oh sì Cosa vedete come link fissato? Aspettate, perché l'ho con me Si è buggetto? Si è buggetto Eh, sapevo Ok, fatto Perfetto Perfetto, fatto Ora dovrebbe essere... Ok bro Buongiorno a tutti Rega Alessio, Michele, Enzo Marti Grazie per il like Belli Come è? Come è? Da posto? Ok Si è fissato Bene Vediamo Come va Perfetto Buongiorno Buongiorno raga Che si dice? Tutto bene? Tutto ok? Siete in ferma In ferma Forma Primo game Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo Come on 20 kg E minchia Ci provemo 1, 2, 3 Via Omar, grazie per il like Mi raccomando Cliccate il link Fissato Rega Che è importantissimo Importantissimo Godo Ciao Ci becchiamo Becchiamo Next time Bro Ok Ho paura Di chi si possa Insediare In questi Nascondigli Hola Minga Minga Bene Ho paura Di questi Avelle Tanta paura Che schifo Come possono aver creato un'arma simile raga Come è possibile Ce l'hanno creata veramente Stucces Allora adesso esploriamo un attimo il suo Vediamo Stefano Grazie per il like Bello Dove si Dove camperano ste bestiacce Che io li ho viste Che erano qua Lì hanno aperto Quindi ce n'è uno qua Vc E' anche aperto lì qua Quindi probabilmente ha fatto tutto il giro Eccoli là Tutti Eccoli là Eccoli là Via Che gioco Wow Incredibile Grazie mille Michele Gentilissimo No non tutto pronto Ieri Sono stato lì Tutto il giorno Ho migliorato un po' di robe Devo settare ancora Tutti gli alert Eccetera eccetera Però sto andando avanti Pian pianino Grazie per il supporto Datone Grazie a tutti rega Chiunque mi abbia Messo già il segui Su Sull'altra piattaforma Grazie belli miei E' un passo molto importante Spero che Molti di voi Riescano Possano E vogliano Supportarmi Anche dall'altra parte Mettendo da parte Le possibili Discriminazioni E Conflitti Tra Piattaforme Manu Grazie per il like Franco Grazie mille Grazie mille Grazie a te Grazie Manu Gentilissimo Bello mio Cazzo Dov'è Minchia ma sta Camperato Cioè stava dietro Sono venuto con lui Ad aiutarlo Oh mi ha fatto morire Niente Unlucky raga Peccato La prima Lo sapete La lasciamo La lasciamo agli altri M'hanno distrutto Vaffanculo Bene Ci sta Già la prima morte Era Proprio da affossare Da lasciarli dove era Che mi ha fatto il tipo Col mitraglione Sparando A caso Completamente a caso Rega Io non so come sia stato possibile Ma Evidentemente Attualmente In questo gioco Basta Sparare Non importa dove O con che precisione Lo si faccia Ma l'importante è Sparare Poi ci pensa Il gioco Un po' Se Se sei troppo Nabbo Te li mette lui Dentro i colpi Se sei un po' troppo Su di KD Te li butta fuori Non ti fai stare Per quanto sei forte Sul viola Secondo me Avrei molto più Di ciò che meriti Grazie Stefano Sei veramente Gentile Grazie Speriamo Vedremo Come andrà Io mi impegnerò Come ho sempre fatto E spero che Voi mi supportiate Come anche voi Avete sempre fatto Lungo tutto il mio percorso E se tutto ciò Filerà liscio Come deve Andrà bene Però dipende Sia da me Che da voi Raga Quindi Sono sicuro Che andrà bene Per quel che possiamo Impegnarci Eccetera Se ci sarà Se ci sarà impegno Edizione da tutte e due Le parti Andrà bene Sì sì Sicuramente Grazie mille Bello Dai raga Se invece Davvero tanto So Potrebbe sembrare Semplice Scontata come cosa Ma ti ringrazio Veramente Ringrazio tutti Rega Perché non è facile Passare da una App all'alto La piattaforma All'altra So Quindi Vi ringrazio Qui sembra che solo Chi se la tira Abbia tanti spettatori E non chi è forte Diciamo che Questo mondo Lo stesso Non è tanto Meritocratico Quindi Anche di là Non cambierà Su questo fattore Diciamo Però Capisco quello Che intendi E Ti ringrazio Ciao Sebastiano Buongiorno Tuas che inizia Prima che puoi Che sai che All'inizio Sono dei primi step Da raggiungere Per poi sbloccare Sì Michi Lo so Lo so Lo so Ti volevo chiedere Ma per Tipo l'affiliazione Così Quanto tempo Deve passare Perché so gli step Ma non so Per quanto tempo Deve E comunque Adesso Inizialmente Sto qui Cerco di passare Più broschi Possibile Dall'altra parte Quindi prima Di andar là Preferivo Far fluire Un po' Tutti Perché Voglio Perdere Il Minor Broschi Sischi Possibili Del passaggio Qua e là Perché Ci tengo Ognuno Di voi Quindi Volevo Farlo Il più lento Possibile Il meglio Che possiamo Quindi Non c'è fretta Vediamo Di farle cose Per bene Di Adesso Soprattutto Gain Finita Skill Che non è Com'è Di più Può Essere Bro Può Essere Sì Però Non è Tutto La Skill Non è Assolutamente Tutto Però Capisco Il pensiero Grazie Michi Gentilissima Per lo Sbatti E questo Se piglia L'arma Mi Ma quant'aggressive Il montare Oggi Mamma mia E non La lascia passare Che c'ha Mamma mia Sono troppo Incazzetto Ma chi Avete sentito Il tipo Urlare Qua nel gioco What Ma Jacopino Cazzimma Ne hai a volontà Ci sono tanti Streamer Che fanno Cagare E ti fai sicuro La differenza Grazie Grazie Gera Grazie Mile Grazie Tra i bei messaggi Non è un cavolo Facile Rega Questa Questa scelta Che stiamo Prendendo Mi incute Molto Molto Terrore Lo sapete Come la penso Però Se Mi Mi supportate Come avete Sempre fatto Avrà Uno stampo Diverso Su Le mie Emozioni Sulla mia Sicurezza Questo è poco Ma sicuro Grse Ui Ui cluster Mayerpader God come un camaleonte Che si sta mimetizzando Giro God proprio Che coglione sono Honestamente qui su fb qua Guardo solo te L'altra live è sempre sul viola Su apple tv l'app di fb non funziona più Mentre l'altra Vuol dire guardare la live sul 55 Eh Eh si fra Eh ma si sa che fb attualmente È bella grezza e Insomma le altre scelte Professionalmente parlando Sono Forse migliori Attualmente Con i tuoi skill ce ne sono pochi A mio modesto parere grazie Stefano Grazie mille E' bello vederti fare una live E via con lo squalone L'avevo fatta su Verdansk una volta Però ero così piccolo che Era passata proprio inosservato Però sì Magari un giorno Mettendosi d'accordo Sarà possibile Dai Grazie Davide Grazie mille Ok Allora vediamo Dove sono gli altri guaglioni Scarra phone Dice così giusto L'ho intonata bene Non imprecatemi contro Sembra di giocare da sola Questo gioco Tipo Ti butta nella mappa E te vai in giro solo a esplorarla È tipo un GTA Rega sto gioco Mi piace Tipo guardi il loot Wow Bella questa No fai così Vai in giro così Belle queste casse Che luci Che atmosfera Bella questa Questa ambientazione Chissà se un giorno Si metterà Della gente dentro Con cui giocarci contro Ma Per ora Mi basta guardare Le strutture Ci sta Porca troia No a parte gli scherzi Si strago Desta mappa Il problema è che è un po' dispersiva E Non essendoci dei punti Come su caldera Di estrazione veloce Come i palloncini Eccetera La gente è un po' Hard Da trovare Soprattutto perché non si possono Spammare i UAV Capito Quindi Tendenzialmente Si fanno meno kill A meno che uno Non sia un pazzo sgravato Va in giro A cazzo A killare tutti Però devi essere davvero Un dragone Verde Rosso Viola Cioè Sicuramente Broski Puoi i tuoi orari Bene male Copre una fascia Poco battuta Ah si si Questo è poco ma sicuro Certamente No no Botta Andatevi un affangu Poi magari cercherò Di Ma Ma dov'è Ma dov'è il Broski qua È là dietro Minchia rega Che timing Bingo Mi ha scopato Però sto gioco Cioè Porco 2 Mi ha scopato malamente Mi ho fatto un drop shot Rega che mi ha buttato indietro nel tempo Ve lo giuro Ho detto che cazzo è successo qua Stavo sparando alle mattonelle Minchia Le stavo sbiancando Porco 2 Oh che trombed Se rimani umile E simpatica Disponibile Non puoi perdere Grazie Enzo Danilo Grazie per le 10 stellones Bro Gentilissimo Grazie per il supper Niente ragazzi Mi violentano emotivamente Su questo gioco È qualcosa di inverosimile Quello lì mi ha proprio fatto capire Che Faccio cagare Mi ha proprio pisciato in faccia Dai compagno Aiutami A portare un contenuto decente No non incularmela però Sì sì inculamela Oddio No Ho sbagliato tasto Minchia Oh che pirlonni No no Dio Dio Aiutami No Vabbè il mio compagno Perché 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 i miei compagni Andano a fai culo qua Ma perché Cioè hanno faiutato Tutte e due me Tutte e due me Il mio compagno è così Cos'è Che succede fra Come si gioca qua Wow Cos'è quello lì Minchia C'ho due player contro Spari Cazzo No Su di me Vabbè Due gulag E due compagni così Minchia Motti Vole c'è di prossimità Giuro Danilo Grazie per le altre Dieci stelloni Siamo 4 a 20 Per te Niente raga Non c'ha da fare Il monta stamattina Deve pigliare Di quelle trote Che minchia Fare il pescatore Sarebbe la professione migliore In questo momento Chiamatemi Sanpei Era fare melagrani Era fare il burro Alla vecchia maniera Alla vecchia maniera Non posso emulare Perché FB potrebbe Bannarmi Ma chi sa Sa Chi non sa Non sa Ormai In questo gioco Non dipendono Più da te Ma da Da con chi fa il burro In parte È vero Anche quello In parte Sì Diciamo che Il tuo compagno Conta molto Però Sì Diciamo che Puoi farcela Anche da sola Però il compagno Conta molto Perché alla fine Se te la gestisci Davvero di testa Te la puoi cavare Però Le chance Diminuiscono Drasticamente Perché ovviamente Sei due contro uno Quindi se il tuo compagno È davvero assente Però Adesso faccio anche io Come loro Sti pezzi di fango Gli sto dietro E quando sparano Sto fermo Sparo in alto Giuro Adesso lo faccio Ok Grazie mille Micky Grazie Dopo do Un occhio No è impossibile Se stanno insieme È impossibile Manu Se trovi gente Che gioca come Il mio compagno Ce la puoi fare Cioè che si splittano Vanno a cazzo Sparano Al juggernaut Lì sì Vicenza Per il like Massimo Salvo Davide Ehi paolo Grazie a tutti Per il like Rega mi raccomando Guardate il link Fissato E lasciate un bel Segui Sull'altra platform Maestro se fai 10 kill Tot in questa partita Sono 70 stelle Ma vuoi Rizzarmi il grillozzo bro Va bene A tuo rischio e pericolo Io non sono Responsabile delle conseguenze Poi Te lo dico Quindi Non lo nego Mi si rizza il grillo Il grillo parlante Scusate se parlo mentre mangio Ma devo mangiare mentre parlo Minca Sono simpatico come Non so come Quale poteva essere Un confronto Simpatico da dire Yo bro Come on Sì Vai Cazzutissimo Voi non valete un cazzo bro Tu Fatela a fa culo Ci penso io Ehi amico Ci becchiamo dopo Doppiaggio Mai monta Ok Ma devo attivare Cazzo Afterburn Per l'evento Le vaffan Moccolo Ok Allora raga Cambiamo un po' Qua Ho visto che Osservatori oggi Mi polverizzano L'anus Quindi via Andere Non fa differenza se vinci o perdi Ok Grazie Eh Oh No Eh vabbè Eh non posso Faitarti Ma porco Due Dammi un'arma Oh Oh Minchia No no mi caga addosso Ma il bro Ah il bro è andato Cheat Non mi piace sta cosa Ma Bravo Cristian Ci sta Ci stava Prossima te la rubo Anzi questa te la rubo Scusa Oh Ma l'avrà killato Quello la Sto cazzo Che smiagoloso raga sono freddo come un daino eh lo so sto smirando raga sono freddissimo scusate grazie alessio buongiorno gg grazie per la condivisione per like no raga è qua sotto questo non si muove no no gg no sto spostando piano piano la gente più avanti quello più avanti ora come ora arrivo qua bisogna fare le cose con calma l'hanno visto uno buona questa pistola per morire istantaneamente in questo gioco questa già va bene il problema che se gli altri hanno mamma mia che bot che sono no dai eh vabbè andiamo là attenzione UAB in uscita dall'area dopo questi 10 mesi di abbonamento li recupero di là in che senso bro noemi grazie per il like grazie a tutti raga per il supporto mi raccomando è il link fissato se potete volete ma c'era la sacca trela raga nell'ultimo che ho ucciso non ci sono mai venuto qua ci credete raga allora il tipo era qui eh ahem oh fattene affan mi dissocio da quello che scrivono in chat qua in gioco raga e il si il sementari marco un nemico questo si è girato così come se nulla fosse sapeva che ero lì va bene il sesto senso di questa gente boh raga oggi il monta sta facendo non cagare peggio vi chiedo scusa perché ce ho voglia di killare di fare allora push ma ciao manu grazie per il like cioè ma non si può fare bisogna giocare davvero statici oh pushare con la macchina però minchia che noia così raga grazie gg te se vuole bene gentilissimo raga il game sense si si cioè era dritto stavo andando dritto arrivo io che i passi non si sentono in sto gioco tac si gira a sinistra ovviamente ma ovviamente pensi di merda andiamo compagno mi raccomando faccio come te è la vai e va di là lui minchia giuro che ti spappolo fattene a fangulo è dietro di te coglionazzo ma non lo vedi minchia oh mi dissocio cioè il tipo sta mandando dritto ma ce l'hai dietro ma che cazzo fai così giocano così minchia i tinteggiatori così gli antennisti guardare in alto figa te la fan cool si scherza raga non è vero è un pezzo di merda quel compagno che era nel gula che ciao ne ho una grazia per la condivisione per il like se vuole bene ti bacerai con la lingua ma posso farlo virtualmente se c'è qualcuno qua sbanniamo Gigi ok Gigi sei stato fortunato stavolta in che ha qualcos'altro da prendere cioè ho scardinato questa è H&M scardinato H&M ha saltato eh eh io ho cacale sotto vediamo qua su com'è come mai questo posto è così silenzioso eppure ci sono tante case c'è tanto loot sta roba mi puzza un po' di di liquidator eh raga sapete il liquidator no quando si è un po' malati quell'acqua di mare mi piace dalle ghiappe eh mi puzza di così eh guavvi nemico ovvio ovvio hai aperto una cassaforte ce ne sono altre due ah bene tanto non mi pusheranno adesso vero mi ha tirato un muovio così potente che sento labbra what are you bro what are you pensi che io ti tema sì effettivamente sì oh cazzo mi sono cagato addosso raga mi avevo raccolto avevo raccolto solo le muni mi sono cagato addosso per il rumore per con due oh caccia ero sull'attenti finché mi ha raccolto le muni qua e sono cagato che pollo vabbè raga ma la gente c'è quella che vedo mi distrugge allora forse è meglio non incontrarla su sto gioco 3 2 1 cecchina 100 100 mi arrivava in mezzo proprio alla fronte nuovo tatuaggio boh il tipo ha tirato l'uavino starà tipo percorrendo la mappa così tipo lui ha tirato l'uavì qua e sta venendo da me così così sta venendo quindi magari tra 50 minuti lo becchiamo raga il tipo secondo me poi potrei sbagliarmi bella sta fn fn c'è questo se non avesse fatto quel bombarda qua raga giuro che staccavo c'è giuro non è vero faccio solo dell'hype in realtà avrei ristartato istantaneamente la partita paolo marci grazie per il like belly aspetta che arrivando qua perché c'ho i soldoni e devo essere sicuro che nessuno mi uccida lo shop sembrerebbe non esserci nessuno sembrerebbe siamo pronti a morire in questo gioco raga a prendere qualcosa allo shop e vedere qualcuno da una finestra equipaggiamento in arrivo sembrerebbe a sembra non esserci nessuno minca l'hai detto fra mo' arrivano tre frappe ho sbagliato pure classe ma che pollo sono raga 42 in vita cioè io ancora ma non fai i predict così potentissimi allora andiamo a prendere questo via andiamo mi raccomando rega link fissato in alto un bel segui sul viola dove ah l'ho visto e e a vabbè e a fang u Marco un nemico Ma è possibile fare un fight La mia vita è tristemente triste La mia vita è tristemente triste È diversamente felice Cioè avete visto tutti che cazzo è appena successo Ma è possibile una roba del genere Cioè sono andato avanti per fightare l'altro Spuntano tutti quando sei di spalle Fra Minchia giocate bro Non ho info su dove cavolo siano questi Cioè veramente Veramente Grazie per il like rega Todos Se vuole bene Dove state adesso tutte e due Ditemi dove minchia sta Ti ho vinto Di arreino che non sei altro Minchia E da dietro ancora Mentre fai to- No 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 Non ci vo- Non ci vo- No Da Rega da Diegao La brua Da Diegao la brua Diegao La brua Non voglio Non voglio accettarla questa cosa Cioè non si mette neanche le piastre Da uno che non si mette neanche le piastre Io Disociale Lo dico Disociale Basta Cioè Cioè stavo andando a fai Basta Basta Giornaliere Muori 70 volte senza fare una kill Completata Yeah E vai Arco il dueo Oggi il singolo In Giocabile 10 kill raga Mi avete proposto in 30 partite Però Mortaccio But But No fan Ah rega Che sfiga Che sfiga Che sfiga No No il ditino No mandare a fanculo Jacopino Il risveglio Io risveglio Della mia ragazza Ehi Ciao Così Dritto qua In faccia Dopo La morte Che ho dovuto subire Da 8 Basta E io Anche il mio amore Ciao Così Qua me l'ha tirato Qua Qua raga Kill totali Dani Secondo me Meno 7 Ne ho fatte Meno 20 ordici Porco 2 Henry Sonio Meravigliosa Perché Come on Grazie per le 20 stelle Dani Un bacione Te se vuole bene Grazie per il supporto Grazie mille Bello mio Let's go baby Mo mandarino Fammo vedere Chi comanda E qua Dai Questa andrà meglio Ne sono sicuro Mo famo un bel game Raga Basta con l'addestramento Adesso Assunterete nemici veri Dai Andiamo Raga Come on Pronti Davide Grazie per il like Tato Ok dai Proviamo L'ultima volta qua Cheat Last Try Della madonna Ma dov'è Troppo lontano Ma l'arma Niente Non esiste Ci ho fatto Mi verrebbe già di Ristartare la partita Raga 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 Soldati Siete i quattro Nella mia arena Le ultimi due Supastiti Se ne andranno Uccidete Mi Della mia arena Raga Siete i quattro Siete i quattro Cosa Dalla mignor Cosa Sembri me quando gioco Più morti che chi Purtroppo è proprio così oggi Oggi mi stanno proprio Cazziando malissimo Paolo Ma proprio Male male Purtroppo ci sono anche queste giornate qua Che bisogna farsene andare bene Perché non è sempre Rose e fiori E allora Andare qua Osservatorio no Torniamo a Hydroelectrics Hydroelectrics Bra Grazie a tutti Grazie a tutti Buono Andiamo a diluttare un attimino Lorenzo grazie per lei Che bello Diverse roccato Identificate Le loro posizioni Sono sulla mappa dattica Falle o Falle o Adesso mi giro Ciao Nico Come stai Non è possibile Però raga Che mi sparano i cazzo Di bot da dietro Cioè io ve lo giuro Wow 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 Ciao Emma Come stai bello Mio tutto bene Mamma mia Raga Oggi Zero Zero Raga Zero Oggi Parco 2 Eh proviamo 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 un coppia Dai Porca Demogno Grazie per il like Rega Se vuole bene Buongiorno a tutti I broschi E cischi Mi raccomando Rega Seguitemi Se potete Volete anche Dall'altra Piettaforma Non male Adesso Accendo per fare Qualche game Ma tutti Non anch'io Mamma mia Nico Auguri Auguri Preparati di pazienza Di pazienza Buona volontà Perché Stamattina Si è pronti a Darti le mazzate qua Sulla scoppola Bene Va bene Non demoralizziamoci Anche se i livelli Sono alti E tosti Dai raga Come on Amo namo Dai dai Siamo con Pumba Non ne ho tanta Ma non demoralizziamo Bravo Così si fa cazzo Dai bro Dai raga Ciao Ciao Buon amore Grazie per like Tu morto Niente raga Non sono ancora Usi da prendere il mio Loadout Cioè per Farvi rendere conto Di Quanto sia forte Quanto sia potente Cosa Ho beccato in testa Ci sta Ci sta Perchè mi rimane Perchè mi rimane Dai raga Come on Andiamo Andiamo Allora 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 Cambiamo Qua Mamma mia Verranno in 487 persone Allora Via Via dire come realist my love but once a a picture said knife gun hey Aiuto ragazzi Ah ma ero in coppie O ero solo Cioè ho startato coppie ma ero solo O ero coppie E c'era il compagno Non si può giocare stamattina Tra poco stacco Cazzo Ti dico Mi sparo BR terzetti E terza persona Arcor mother father Becca di gist Pezzi di merda E metto anche Anche Chat di prossimità Via Basta Basta Per favore Facci trovare della gente che Sia più forte di me Per favore Che stamattina è tosta Per favore Dio di Call of Duty Non farmi crollare Non farmi cacare Mio dio raga Stamattina Bella tosta eh Che dite Minchia avrò fatto Sieno Dieci kill In tutte le partite che abbiamo fatto Mamma mia Devo ammettere che è debilitante Questa cosa È debilitante Mentalmente E fisicamente Arco 2 Arco 2 Va bene Va boh Qualcuno ha scoperto raga Come togliere queste cavolo di notifiche Che vengono a fine game Qualcuno lo sa Sa spiegarmelo Ma perché Ogni volta vengono Ogni santa volta E devo ammettere Io che sono Un perfezionista Sta abbastanza Sulle guargalle Questa cosina qua Dai cazzeggiamo un po' in terza Raga Divertiamoci un po' Via Dai 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 Let's go Come on Chi lo sa Magari sarò un portente In questa modalità oggi Non credo ma Diciamo finta di sì Oh tu Dove sei? Ma Dai vieno i pulpi Basta con l'attamento Adesso affronterete i nemici Basta Fu qua dentro Bene Adesso Dai Come on Andiamo Mi raccomando Mi raccomando Rega Al link Fissato È importante Ho prendo gli scapaccioni Ieri sera In terza persona No No Non dirmi così Ale Per favore Non dirmi così Che già oggi è tosta Ora in terza persona Devo quittare Porco due Io non mollo Io voglio scendere qua Prendere il loadout Qua Dieci kill Qua Dai Ma che cattiveria bro Ho trovato la mia modalità Rega Basta Oh che cazzo fai Già Già Un po' di kill Abbiamo fatto Almeno Avrei fatto anche la quarta kill Se non ci fosse stato Quel compagno Grillettino Che Sì ti vengo ad aiutare Compagno E invece C'ho I compagni Al core Dicono Vaffa Ma si Chi se ne sbatte Se sei là Dove A farmi Gazzi Miei Sì Ale Stavo facendo Il pezzaccio Carlo Grazie per il Follow bro Benvenuto Berroski Buon divertimento 3 2 1 Via È ora di killare Dai Tanto vieni Che fa Compagno Dov'è Il mio compagno Dov'è È fermo Allo shop Fermo Cioè io C'ho questi Compagni Raga C'ho questi Immobili Diego Michael Grazie per il like Porco 2 Raga Il gioco Lo fa apposta Lo fa apposta Dai Dai Lo Cal Tu Io Vai Ce la farà Secondo me Quella viola Diego Vediamo 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 come va Quanta più gente Riesco a portarvi là Però Penso di Spostarvi Qua le cose Su fb Non vanno tanto bene Vediamo Vediamo Sono più propenso Ad andare là Sono sincero Raga Almeno lui Ha vinto La domanda è Ce la farà Ressare Farà qualcosa C'è Il nostro compagno Ha anche quittato Devo ammettere Che è Onesto Vediamo Allora ragazzi Siamo qui Torneo Internazionale Eliminate 200.000 dollari Duo vitrio Sono in coppia con Lost Cavalry Che vede la taglia Deve Lutare Fare i soldi Ressarmi La donna La domanda è Se Mountain È forte Che pezzo Di diarreino Che sei Bro Te lo giuro Non è La domanda Se Monte Ne Farò La domanda È Lo Skokalvrai È forte Così forte Da riuscirmi A restare In questa Partita Farco due No cap Bro Come stai Marchetto Tutto bene Molto Lo scolto Compai Ti piace La visuale Da soft air Oddio Già Nacchino Ce l'è fatta Bene A parte L'influenza Minca Ma ce l'hanno Tipo L'80% Della gente Che conosco St'influenza Qua Mi siete battuti bene Scusate alla base Fate rapporto Aaaaaaah Venere Soni The Verror Bene Tanto Non volevo giocare Easy bro C'è problema Niente Riproviamo Single Pork Due Mortacci Sua Aaaaaaah Dai raga Giuro Ce la faremo Fare una partita decente Con più di Una kill Giuro Eh Ce la faremo Ce la faremo Sicuro Magari tra due o tre ore Ma ce la faremo Porco il demonio Porco il demonio Ma dove sta Ehi Ma chi ce l'è Matti Grazie per la condivisione Ebbene Buongiorno Buongiorno Tattonzi Otti D'inverno Igor Buongiorno Bro Che stai? Grazie per il like Come stai Tatone Dai Come on Come on A Buongiorno Per A A B Buongiorno No, Igor, no, no, sto cercando di far fluire, se si dice così, la gente che ho qua su l'altra piattaforma per poi, nel caso, spostarmi di là. Quindi, no, no, adesso sto qua. Ma stiamo scherzando? Devo chiudere, devo chiudere il gioco, raga, cioè non mi fa fare niente. C'è? Ma? Com'è possibile? Io sono allibito, sono scioccato. Dai che ce la farei a vincere un game. I don't know, bro. Non ne sarei così sicuro. Oggi, stamattina, è altamente improbabile. Mi raccomando, rega, eh, guardate il link fissato e se potete, volete, seguitemi anche dall'altra parte, va bene? So che non è facile, so che non tutti vogliono, però se vi fa piacere e volete continuare a supportarmi, ne sarei grato. Antonio, grazie per il like, bello. Te se vuole bene, bro? Allora... Francesco, Agata, grazie per il like. Allora, papà, 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 un attimo, rega. Che cazzo? Un attimo, eh. Allora, un attimo, eh, raga. Scusate. Sto cercando di entrare su disk, ord. Scusate. Ok, mi senti, bro? Mm-hmm. Bella, un B. Ti apposto? Comunque io non ce l'avevo, sto server qua, eh, cioè... Rip. Non lo so. Mi ha snobbato, mi ha... Mi ha quittato, secondo me, un pezzo di fango. Grazie, Matti, sei gentilissimo, bro, che se vuole bene. Un bacione. Mi arrivo. Sì. Grazie, grazie tante, Matti. Rega, ribadisco, se potete seguitemi anche di là. So che non è facile, eh. So che non piace questo switch di cose, però... Vedremo come va. Vado un attimo in bagno, rega, arrivo subito, scusatemi, ma... Devo pisciare anch'io. Sì. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, Agatha, non ancora. Sto cercando di spostare la gente dall'altra parte nel caso in cui dovessi cambiare, più o meno. Non ho perso tutto, capito? Esatto, Matti. Però probabilmente mi sposterò. Probabilmente mi sposterò, raga, quindi se potete mettetemi il follow anche là. Grazie. Mi senti, bro? Donde vuoi? Non possiamo andare a OBS, sennò a Hidro, non c'è. Ciao Stefano, ciao Pasquale. Buongiorno, raga. Vabbiamo. Let's go. FRACKER! Mi hanno beccato! È uscito. Trovare un'arma, perché sennò... Tutto bene, stai? Come stai, Tato? Stai a posti? Matti! 470 days, bro! Grande, bro. Grazie per il supper. Paccato. FRACKER! Sono giù. FRACKER! Capito un FRACKER! Sei il prossimo, sei nel Gulag. FRACKER! 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 Forse sei Riccardo, grazie mille, bro. Grazie. Ho sbagliato io... Broder, scusa. Pensavo che fosse un bot... Fa più che altro. Sono... Ghiacciato. No, mi avevo ancora sbagliato io. FRACKER! No, non voglio leggere quelle cose che vedessi. Non lo so mai. In che 400 giorni lo stai? Grande, bro. Grazie. Yes! Gli cari! Trovo, mangio! Ferita a sinistra, ferita a sinistra. Ferita a sinistra, hai quasi scusato. Ferita. I bushi al mezzo. Nice. LUCCHIE! Aaaaaaaaaa sono troppo freddo mannaggia shake it out mario grazie per like viaggio grazie mille rega mi raccomando se potete link fissato seguitemi anche di là nel caso in cui dovessi spostarmi così se volete continuare a supportarmi mi troverete anche di là ovviamente adesso continuo a rimanere qui su questa piattaforma però intanto preparo preparo un po' il piano per l'altra va bene? perché su questa piattaforma attualmente ci sono svariati problemi che non permettono la crescita lavorativa e professionale che voglio percorrere è una buona piattaforma però attualmente non non rispetta ciò che io sto cercando e volendo quindi non voglio assolutamente sputare nel piatto in cui ho mangiato finora mai lo farò però insomma adesso voglio cercare qualcosina d'altro mi serve mi serve perché è ancora un po' grezza questa piattaforma per quello che sto cercando io ovvero un lavoro quindi non voglio che le parole che ho appena detto si tramutino in lavoro uguale denaro non si sta parlando di denaro qua di cash da prendere non sto cambiando per questo ma proprio per le meccaniche che ha l'altra piattaforma che ovviamente è più stabile è più performante attualmente perché essendoci da più anni sa cosa gli streamer barra clienti cercano e vogliono capito qua ci sono troppi bug che non permettono la insomma di far le cose fatte come dovrebbero capito cosa intendo manuele grau purtroppo non c'è più si è sciolta da qualche giorno viaggio sul sul viola mi chiamo sempre così mountain e c'è il link fissato in alto esatto stefano grazie mille per l'aiuto ciao mastro come stai bello mio tutto bene quindi ci tengo a dire che non si sta cambiando per un fattore monetario ma di potenzialità della piattaforma e di serghietà della piattaforma anche perché se si vuole intraprendere questo mestiere i soldi sono l'ultima cosa perché se già partite con faccio questo per quello non salirete mai non farete mai carriera non farete mai strada e non vi verrà bene il lavoro che andrete a fare in ambito di streamer quindi so che voi non lo pensate questo però ci tengo a dirlo nel caso in cui ci fosse qualche persona nuova che non mi avesse visto giocare non mi conoscesse come streamer capito eccomi vai bello come stai male mastro tra la cacarella e ma johnny shagerato grazie per like un bacione belli easy win babalagon mamma mia quanta gente fra you have no fucking idea bro mamma mia bro mamma mia ma che cazzo c'era la cacciaforte o ne tagliali taglia mamma mia infatti poi si contrastano con la sub la pubblicità bello magari la cagarella febbre placche gola tonsill tonsillip tosse porto due fra bella tosta l'hai presa sto giro madonna uccidete gli altri e vi riporterò nella zona di guerra e il tempo guai uccidere 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 Nostro? ah no lì ma c'ha armi per forza ma non ci sono armi c'è un altro sotto mi sa che questo nuovo quadro non mi piace per niente è difficile però è difficile l'ho visto secondo piano e attività nemica ok no no riccardo no no ancora no mi aspetto prima di spostare un po' di gente mamma non Sì, 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 sì. Questo poi è da dove cavolo è comparso, certo, apposta Schifo Ok Ok, vogliono la guerra? Che guerra avranno? Allora, raga, come state? Tutto bene? Da posto Tutti i contenuti recuperati, contratto completato Facciamo uova Se lavoro, Johnny Stacchi presto oggi Spero di sì, dai, ho i full day Sabato fa male, eh Nel cuore Alle 13 Finchia Domani però riposo, spero Oppure domani ti distruggi Grazie Ale L'ho visto Top Dopo Dietro del boccio Ok, sto piccando a me No, ho fatto dentro Ok 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 Perfetto Grazie Riccardo Gentilissimo Gioco all Xbox Series X Una bomba Nice bro Domani Domani sì, certo Almeno Prendo un'arma Non lo so E poi se l'avevo C'è Uno Un osservatorio C'è Un cazzo C'è un cazzo Prendiamo il camione Boh Prendiamo il camion Prendiamo il camion Poi non so I don't know bro Prendiamo Uff Cah C'è un ora qua Sì Va bene Dai Lì, puoi avviare? non c'è problema come suono il lento con sto rpk mi tiro un bomb oh oh a sinistra fight no l'ho visto sul tetto lancio guarda c'è l'altro tetto capo di qua questo no 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 c'è l'altro non mi muori mancano quelli che taglia taglia è mai stata sola sta scappando che ha preso la macchina che ha preso la macchina che ha preso eh niente come taglia sottrattano allora me l'ho fatto eh si che gente li ha si li vedo si li vedo stavano andando verso di qua di qua qui c'è chi no eh qui c'è qui c'è qui c'è siamo c'è qui c'è poi no 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 uno sotto che pirla che sono, una terra Grazie Antonino Sei veramente gentile Un bacione Rega scusate ho fatto un errore madornale Per sbaglio sono caduto giù da lì Sapevo che c'era quello sotto Ma sono caduto Certo War ti invito dopo questo Se riesce a restare appena poi Sennò niente Ciao prima di tutto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto qua tutto qua Ma con self Ah ce l'avevo anche No di quello zaino medio Mi sa che lo perdi forever Ma perché Mi riparo a sedere le scale Oh 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 Sì ce l'ho ce l'ho Un smg decente Qua c'era questo Ok dai ragazzi Dai Roma Noi 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 No l'està Uhum Puscio stoppa Venga Insider Ma close, close da me guarda me ma dove graccato graccato minchiera da terra porco due sono ritrovato lì dentro ma sono due non può essere così veloce eh ecco perché ti invito guarda questo però è uno era uno no 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 sono due 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 due? è l'altro tocce le idgard eh sono vivi allora erano due infatti non capivo infatti mi hai detto da me figa sono venuto non c'era sono andato dentro fra me lo sono trovato davanti ho detto ma come è possibile che era da lui e qua da me infatti io pensavo fosse uno invece uno era gustato figa oh allora aspetta so toxic bro ma si può invitare al server il nemico ci sono però dobbiamo andare se lo puoi aggiungere tu aggiungi amici al aggiungi amici al messaggio diretto no l'ho invitato vediamo se perché noi non siamo in un canale adesso però no no a meno che noi andiamo nel server di là dove t'ho invitato c'è il messaggio no? si però da qua lo inviti si penso di averlo fatto si eccolo ok bella war bella un altro server giusto per no? ah si ormai si ormai tanto avrai già 50 si anche il 51esimo fai niente nel caso poi qui poi ti si rinvita nel caso beh comunque laserava benino quel tipo lì che c'avi in close bro io i colpi li mettevo addosso no non so come abbia fatto da quello spiraglio ti ha traccato vabbè da tanto full che me ha laserato mi avrà preso full headshot sono entrato stra arroganti ma niente entrare arroganti con il jump non è una buona cosa in sto gioco devi entrare mirato in frame la schien da traiardino giusto per chiedere dove era quella persona eh si è anticipato fa schifo sto cod ah così ste proprio insomma ci vai piano fa cagà easy invece è bello si sta si si a me piace a parte certe meccaniche mi fa rusicare quindi dico gioco di merda ma alla fine è bello a parte il loot che quello fa veramente cagare non si può dire niente bro a te piace toby il gioco puoi chiamarlo umberto come il suo vero umbi umbi è meglio scombi sarà difficile ricordarlo allora usa toby 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 ciao luca buongiorno bro come on bro ti sta esplodendo il pc umbi quanto ce l'hai il gpu 89 mi sta esplodendo il corpo non ho la voce che sembro un finisci tu la frase una tartaro organizza prego stavo per sputare tutto quello che stavo bevendo quando sul viola adesso devo vedere pian pianino luca magari tra un mesetto appena sono riuscito a far fluire tutta la gente che ho qua che mi vuole supportare anche di là perché ovviamente non si riuscirà a portare la stessa gente dall'altra parte ne sono consapevole però riuscirò a portare la gente che ci tiene davvero a me che mi supporta veramente quindi mi basta però cercare di portarla il più possibile quindi ci vuole un po' di tempo un mesettino anno nuovo magari più o meno se poi decido effettivamente di spostarmi di là io sono molto propenso sto seguendo anche molto i vostri pareri mi sto facendo un'idea anche voi mi seguireste di là quindi bene o male le idee ce le stiamo un po' facendo grazie a tutte le persone che hanno già messo il follow di là raga se vuole bene mi raccomando per chi non l'abbia ancora fatto link fissato mettete il follow grazie raga andiamo a hydro no no osservatorio non l'ho visto ma quella cupola lì my god bro anche a cupola arrivano eh sono sul tetto dell'altra l'altra parte arrivano un cazzo di armi su due uor un altro altro è fuori guarda su se è un'arma si si prendila si si una terra parco due però dietro di me il tuo vetro grazie mille Luca sei gentilissimo come stai cami un bacione tata buongiorno come va sei in pausetta un bacione Ah, david Ah, david Sopra casa, window Ah, anche behind Eh, beh, um Ah, troppi, non ho colpi, oh Siamo in due Ok, ok, non ho colpi, non ho colpi Ok, colpi, te li sto prendendo aiuto, nel cacco Com'è la situa? Non stai, eh Un po' troppi Eh, metto a chi non ho Un po' troppi Un po' troppi Un po' troppi Da me, da me Un po' qua Un po' cazzo Un po' ucci Lì c'è una battita nelle scale Un po' troppa Un po' troppa Un po' troppa Tieni, tieni Un po' tu Un po' qi no, 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 colose da me ti ributta giù ondato su, ondato su prendo la corda nice qua c'è uno stanno medio raga ok la ragazza no qua Qua Le piazza le hai? Sicuri che non ci sia altro gente? Non so, continuano a scendere Se trovate... Barazza 3 Andiamo alla taglia sotto Si adesso andiamo Facciamo un C no? Qua possiamo anche iettarci Anche solo i caronovi volendo poi Non so, non so Non so, non so Non so, non so Ho fatto il call out C'erano altri Un cecchino Lancio bombo È andato giù a destra No, mi sei bancato alla puntina N'era un altro qua, eccolo Qua è uno, se non l'ho visto male A me raga mi sei bugato all'HUD Non vedo niente L'altro se l'è andato col para? No Però non era andato lontano Chi è con la mimetica tutta nera? Io Ok, seguo te Non vedo più l'HUD Ok Non so se siete nemici Sì Di come ho fatto la cazzata delle bombarde Sai di metterlo e toglierlo? Ah Eh, a volte è passato il lavoro qua Che palle Niente Una domanda Ciao Francesco, buongiorno Una domanda Monta per le sub di FB Quando passi su Twitch Come funziona poi? Si convertono? Vanno... In che senso? Ehm... Poi la sub che hai qua Non vale più su Twitch Capito? E sulla piattaforma viola Minchia Ah Infatti poi mi sposterò quando Saranno scadute le vostre qua Più o meno Tranquilli che Non sono Perse Perché il corrispettivo Mi arriva poi Solo che là c'è da farne un'altra E... E qua potete Non farla pure Paralo Stai lì? Sì, secondo piano Sì, sì, sì Puoi lasciarlo? Sì, sì Lasciarlo Lasciarlo Eh, porco due Pensavo piccaste Non morirai Ci sono io Ok Cammy Non c'è problema Non c'è problema Non ti preoccupare Non c'è problema Perché adesso rimango qua Non mi sposto Quindi... Grazie mille Un bacione Tata Non è... Non è... Tata persa Eh, due in teoria sono a terra Dov'era? È uno Nelle finestre Secondo piano C'è un modo per risolverlo mentre gioco Un lag dell'H1 Un lag dell'H1 Ma non credo siamo finiti Sì Secondo me Un'arma peggiore dell'altra Mamma mia Non ho persi Ancora no No Il gas è esposta Pronti alla divisione Un tuo compagno Ha aiutato a rientro Il fatto che non vedo neanche quando li crack Non vedo niente io Ma com'è che succede? Cioè devi prendere il bombarda e lasciare la terra Mi si bugga quando voglio tirare bombarda e annullo Sai rischiacci di nuovo la freccia no? Mi chiuso Ora funziona? No No perdico no no Prima cerco di spettare più broschi possibili dall'altra parte E poi tra un mesetto Quando siamo già un po' Vedremo di spostarci Ti faccio una promessa che appena vai sul viola rifaccio l'abbonamento Almeno giochiamo un po' se Va bene Luca Grazie mille Però anche la ci sarà da aspettare Per fare l'abbonamento Perché all'inizio non si potrà fare Perché non avrò l'affigliazione Quindi bisognerà aspettare secondo me Un tot di tempo che devo raggiungere determinati requisiti Poi si potranno rimandare le stelle che vengono chiamati beat E gli abbonamenti Inizialmente sarà tutto un po' fermo Dovremo ricrescere raga purtroppo è così Ciao Ricky buongiorno Per chi non l'abbia fatto Chi non sapete cosa stia accadendo Sto valutando di spostarmi di piattaforma Quindi se volete continuare a supportarmi E a vedermi Sotto nei commenti fissati c'è Il canale Mio dell'altra piattaforma Quindi se vi va di lasciare un follow anche di là Così quando ci sposteremo mi troverete anche di là raga Un bacione bellissimo E' buono quello cos'era Vecchia Romagna Sì Vecchia Romagna l'influenza Nacarin Thanks for follow me Grazie per il follow bro Self La minchia eh La minchia era il self bro Del cassetto del medicinale Il cassetto del medicinale Stiga Ciao mamma come stai? Grazie Ricky Un bacione grande bro Ma che ti tuffi Ma che fai? Parcours 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 Passato Pensa che avrà detto Sicuramente la chat No no sono qua Non venire Non venire Sti camperoni Sono le shop Quattro se li abbiamo? Oh Oh Posso prendermi l'arma Top Anche se sono povero come Anche io non ho niente Non pingo Niente Grazie Persico Ti si vuole bene Oh pingo qua Ma non ha lanciato il drop questo? Aereo Ok devo Prenderai sto drop Questa va E mi toglie lì Aspetta eh Brother che prendiamo prima l'oddy Vengo con voi Ero sul tetto no? Ehm Mi sento dal carrello La zona terra è piuttosto lontana Voglio affettarsi Ok Mirko grazie per live Lorenzo grazie anche a te Cato Sono due Andatisi qua sul tetto Si prendono in Se avete un bomb No non c'è bisogno del 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 bomb Ovviamente il mio è arrestato eh Se lo sento Palle ooo È sceso? Anche qua close Una shot Mio dio Che chillo merda che prendo sempre Perché? Per sopra? si si dobbiamo salire per ah no che palle però sempre dei miei non riesco a confermare porco demonio però grazie Ricky gentilissimo grazie a te dopo shop la skin nera dallo shop un paio di volte come sempre invisibile è ovvio stranamente toby ce l'ha giustamente the new raw skin e uno scende col paragodute si oh co muo quando si sdrya non li vedo mica vedi se mi metizzano l'ho preso proprio ieri la schiena hai fatto bene bro è rottissimo andiamo in safe e li cattiamo eh si conviene 4 secondi vengo giù mi ricordate dove è l'ulta qua c'è una pistola bro lì si ma non posso riprendere l'oddy vero no qui siamo non credo qua c'è altra roba giriamo intanto sono morto qua dentro si si qua c'è l'oddy bro qua 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 c'è l'oddy però pingato c'era tipo due team a meno che erano team che stavano teamando la macchina sotto lì da vicino alla macchina sotto lì dietro di me è fighta no? no stiamo andando in safe già di picking position io odio dai dai che sei forte ce la fai oh ste pietre mamma mia noi li aspettiamo qua o andiamo già avanti qua almeno c'è un po' di alti io ho avuto solo un occhio qua se li vedo questa non è full electric c'è un tonino no quella lì quella non è a norma io dirò dovrebbero arrivare voglio veramente erano 6 ma se ci mettiamo qua non ha senso stare lì vabbè ma minchia i bot sono vaffanculo ogni volta devo aprir la mappa per capire di qua sei felice oh eh perché spara che rompe forse i bot eh lì ci sono i bot oh oh Tony grazie per il follow bro benvenuto ma dove sono o no? poi hanno girato più di qua no 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 impossibile perché? l'era sicuro aspettino di spararmi è il panorama comunque ah sì bello minecraft dimmi d'indiciamo dove c'è dove c'è io ho sparito non c'è neanche una privata guarda il laser bro ma i ping che metto li vedete voi? si sinistra? non ho capito dove beh solo uno è riuscito a ma dove sei? mi spari non ti vedo bro la mia sinistra io sto ancora sperando che ma ma è qua dietro spuntino da qua cioè si sono massacrati ah vaffanculo perché non hanno timbato possiamo andare la sti cazzo di bot ma muori stagione andiamo safe subito bene carottacelo è imprendibile fra qua c'è la tua intenzione qua voglio prendere non non né è il è non mi piace tanto come posto un po' troppo pena questa roba qua che fa ma? la sta crossando uno lì un altro sta arrivando state girando? ma io ho sentito ma io ho sentito ma io ho sentito ma io ho sentito avete sentito? qua sotto qua sotto ce n'è uno vabbè ha aperto delle sacche parla mi ha stillato anche questa pensa che per un attimo ho curiositato pensavo fosse monta però poi ho detto no stavano correndo in tre no no top top grattacielo pezzi di fango questi si devono iettare c'è che viene a passare già dall'altra parte di nuovo qua c'è aspetta a sparare qua sotto parisi o sopra sotto 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 altro avanti ah no ma lasciate voi arrivo lasciate voi what the fuck in teoria due sono morti però vabbè temporeggio uno via uno via uno via no beh sì un team da due questo rimane sotto really bro quanto è che quelli dell'apparazione sono adesso sei tra i ultimi 5 c***o è crashato oh 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 what the fuck nuova zona sicura vabbè raga ma come cazzo gioca sta gente dai eh ma no siamo morti pazzi rega minchia buttarsi di così che avevamo purtroppo io non capivo io ti giuro mi ha messo la maschera vedevo i nomi poi non li vedevo più pensavo fosse voi invece non ne avevate voi dai mi sono buttato a perderti una mano io ho corso addosso io questo non ho capito hai fatto come me porca puttana porca gioca come era si è arrabbiato Jacopo no no ma va mi sono incazzato per quello lì che è salito sopra la tangente arrampicandosi in mezzo alla safe vabbè che eravamo l'ultimo tip eravamo 1v1 quindi per forza sapevo che ero qua a sto pezzo di chiappa in gulo peccato si stalla il gioco dai si si bella rega addio anch'io ciao subichiamo su minecraft 2.0 è stato un bel game dai va bene peccato un posto di merda quello lì vado in bagno arrivo raga jahri grazie 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ehi. Ehi. No. Ehi. No. 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 Vola. 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 avrò. One shot. No. 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 Vedi' come moriamo adesso? Sì. sì. Uno infillo l'altro. E invece. Dai ma la garzetta doveva... che cfio? Era di qua. Poi c'erano altri che ci sparavano. Il team lì non l'abbiamo confermato. Sò sparito lì. Ci ha tirato una give a fuckhata quello lì che è volato via. Eh. Boh. Minchia ci ha tirato un giro Questo del capricorno Ma? Che tristezza Arriva il gatto Marco la sua pagina sicura Va bene Io odio questo gioco Perché apre paracadute senza senso Vabbè Però non c'è questo gioco Di là Che cazzo devo dire Forza Lancio di equipaggiamento per voi Che vabbè da culo allora Contratto cacca qui Sì murta Molto murta Mamma Super Chiedimi Raffan Una bella preda pura Poi Smoking dioppa Motherfader Lo spacale Palle Statterate Helicopter Io passo di là Helicopter Helicopter Tanto ma non drop Easy Da dietro Vaffanculo Sei dalla barca Più o meno Vai tutto sott'acqua Vai tutto sott'acqua Fai il verbe Te l'ho visto Il tato Passa Dove stava? Qui Vabbè ma ormai Come fai? Nato giù Non so ma ha tirato una flashbang da sopra Ho messo i peri in di mare Spostati un po' No Eh si bugga C'è ancora il self Devo prendere il drop C'erano quelli che dovevano crossare Eccoli Eccoli Stam crossando Uno in acqua Uno in acqua Dalla open Dalla open dietro anche A sinistra A sinistra Flanca Flanca la tua A sinistra Power Ok E' un altro sopra a casa davanti a me Mi hanno calcato Ma bombardato Lo vedo Ma il 10 è per te Un'altra in acqua Arriva sempre da tua sinistra Trova il 100% Vinti mi picca il tuo war Nuova zona sicura Mi piace la 1 del 3 da me C'è una 1 dietro Macchina macchina Mi assaltano toby C'è una mano raga Mi spora che c'è un piene ovunque Ce li abbiamo ovunque Io a sinistra C'è lì a destra C'è lì a sotto Sono buttati uno Uno è andato più in giù Ce l'abbiamo anche a destra Eh siamo avuti intorno Top 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 alla mia destra Ok Sì è arrivato Ripuscia me Ecco uno lì L'altro è rimasto sul tetto alto Lì è Vado qui Non mi copri Lì salgo sul tetto dritto Vai 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 Spara due colpi giusto per sminchiarmi No No Sì c'è una mila destabilizzata Sì c'è una mila destabilizzata Ho tirato un bombi Che cazzo Niente nell'acqua In teoria avevamo quello dietro Che era scappato Staticamente Ecco lì Due Io ce l'ho quello lì Quando vuoi Vai Tranchi Tranchi Ho due selfie Ok Sono in David Ho messo uno a terra Non so dove E' finito Qualcos'altro Ok Dai io non ci credo Il trucco che vola Io non ci credo Ho più munizioni a air Minchia Oh io vado in acqua Secondo me chiude di là Raga questa vaga impressione Ah devo lottare Quello che ho ucciso Prima qua Stessa colpi a air Se no sono panato Prendiamo una casetta lì Ui cane Ci c'è gente anche là sopra Prendetevi il top Di questa casa qua Raga Questa qua Ah sì 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 C'è il top Eh ma bambini Abbiamo ancora tutto intorno Che è alto Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vediamo questa di casa Ok sopra il palazzone Porco il demonio Non si fa salire acqua Secondo me quella struttura là Era un pirale Ho uno di casa di tia Sì l'ho visto Prima c'è anche uno con un cecchino sopra Ho la tua pick Occhio da quello là che vi vede Quello dietro Occhio eh Eh si deve buttare Minchia Non c'è un bel problema Ok ma se quelli là si butteranno Allora c'è la davanti C'è la davanti Guarda che c'è la scuola Un attimo Aspetta Ma dai vai 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 Ma dove è stata Stava facendo Ok Ok Ho fatto uno lì nel back No 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 Oh ti odio con questo bombi dai Wat No 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 Ho trasferto Ho trasferto Questa te Ok Questa 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 Pappa da me! Pappa da me! No! Zentex no! Cazzo! Che palle! Cioè da una partita morta diventa una partita che non si capisce un cazzo! Alla fine però ci sta! Il mio gioco mi piace proprio per questo! Non sai mai! Faccio l'ultima raga! Però è anche io! Mangiare qualcosa! Arrivederci! Minchia ma hanno fatto un super sandwich! C'è due team proprio che mi hanno distrutto! Potevo muovermi! Mi hanno distrutto! Po 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 porco due! Mi hanno distrutto! 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 Si quindi sono andati della sparse! Ah, tappi, 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 tappiii! Cheewee woo! Preparate l'attrezzatura. Cheewee, tappi, tappi, tappii, tappii. No, mi distorcio Copyright, minchia, volo via Volo Volo proprio Copyright del Lely, rega Volo, addio ragazzi, è stato bello Ciao a tutti Grazie Lely Kelly, grazie per avermi rovinato tutto Addio raga Dai, ultimo game, come on Ciao Lely Kelly E questo, minchiona Dai Dai Lì proprio Dai, bravo Dai Ho 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 Sì oppure la scammata subito almeno una gioia nella vita aiuto aiuto il ipergellino la scammata subito E sono ourcina per non quando si 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 ma non la scammata è no cosa fa questo secondo piano l'hai visto passare è vero più avvi lui ha fatto male ma io fare male bello questo gioco ce ne abbiamo tutti dietro raga ce l'ho tutti davanti avete un altro wav? io odiale voi no non esage l'ale io odiale voi tanto no dille eccoci si vieni vieni gomitolo vieni ma cosa state facendo lì? ma cosa fate? ma cosa fa? ma questo mi picca pushano a sinistra ho visto? di largo a sinistra lancio un bel bombo così li faccio scagazzare da te eh come hai detto hai salito lì a sinistra no ma dove è qua? dove è? si qua lì io l'ho capito perchè lui stava piccando a me col cecchino qua l'ho messo a un beccato su raga si 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 il vetro sopra si si i passi sono qua quanti? ah io ne ho visto inendarsi due almeno quello ce l'ho io ma molto poco stanno passando stanno passando stanno passando stanno passando stanno passando questi girano questi boh scappano tre? ma sho vai vai che te la scavo che due coglioni stanno incastrati brooo how you doing? seriously perché corrono avanti e basta questi? no no questi stanno correndo avanti eccolo uno qua davanti a me che schifo vi giuro siete delle bestie reincarnate che schifo che fate si ma cazza forte non fare così devo un po' che che I'm into em guardate voi uova, io ho fatto il bomb un bel arp cap andatevi una fangulo qua l'ho scelto un grappolo ho fatto il bomb alexander, grazie per la ii la taglia non esiste c'è gente di la ho tirato via che palle le taglia qua tipo backflip guarda pure con la macchina minchia ma è bravo il guido eh si si è bravo il guido oh e gente come brudy dai 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 vai vai no mai guardate fate il cazzo io vi ci porto in borsa no io ho di sociale questa terminologia napple opleata war morto 3 2 1 no no non credevo che cazzo è andato che polla guarda cosa fanno ti rubano uav e scappano si ormai funziona al contrario uav ecco li ecco li guarda che figli di troia io ho delle social io ho delle social cosa ti curi hanno preso la taglia qua peccassero vabbè ne pingava più di uno c'è la taglia qua qua era da solo aveva preso questa eh che lo so da me viste viste vabbè aspetta aspetta c'è un check in un nemico vai via war ma davvero mi challenge vai via war tupido bot no vai via war no guarda che fuori col tempi guarda si è close no sinistra sinistra no altri devo caricare lanciato un bombo vai qua close fra oh un'allocato godo ci siamo messi a dare insieme non è stata roma verme non so dove sia strano sei alzato ok non l'avrei mai detto minchia non me l'ha collato fra ok due parti manca uno eccolo dove oh sta sparato ok craccato terra ok che si resta perchè non ha dato fin che messi si resta che messi si resta non l'ho sentito tornato godo come un arcivescovo che sta facendo la sua prima messa godo godo ciao minchia che scammone word guarda adesso mi tatuo sti sti togli word devi mettere solo steal scritto meglio steal no 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 ma perchè stanno fermi no stai lì che si resta poi si muovono noti dov'è torco due che pezzo di fango vado a luttare le mie kill it's such a fucking home guarda sdraiato c'è ma quando sei tattico si perchè sto cercando di capire cosa buttare cosa poter oh tommy no cosa fai bro questo è il big dick madonna sono morto come un coglione qua c'è un bombard eh c'ho un grappolonis un caccolone sto cazzo restatemi subito se no urlo vado qui le sale dove lo shop ah eh c'è questo non c'è questo ammio che successo di zona compagni sempre bravi al gulag figli di tro dai dai la colpa ai compagni toby normale dai capisco capisco eccolo il ritorno come back come check no dai dai andiamo a prendere la taglia ricampati ricampati rega frizzato il gioco ciao frizz amico frizz infatti cammini come un granchio di lato sono tornato figli di tro è l'altro grassato guarda lì che cammina come un granchio che gioco di merda te lo giuro fosse fisico lo terrai fuori dalla costa e cagerei sopra ok che palle che palle che palle che palle raga campanato nella casetta occhio sto gioco fa cagare porco di che tenta ha fatto sì uno l'ho fatto l'altro no hai visto dove erano fermi lì dentro raga io stacco dopo questa bellissima perla di mister crab ci becchiamo al prossimo giro ciao toby ciao addio raga ciao raga io vi saluto grazie per la compagnia spero vi siete divertiti mi raccomando seguitemi sull'altra piattaforma se volete continuare a supportarmi vi auguro una buona giornata ci becchiamo o oggi o domani va bene un bacione a rega del monti ciao buon appetito